L'operazione eseguita nella mattinata odierna dai carabinieri della compagnia di Marcianise ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale dedita principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti con base logistica in Marcianise e dislocazione anche nella città di Milano. Le indagini, coordinate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno appurato l'esistenza di una fitta rete di distribuzione dello stupefacente ai clienti che operava attraverso dei veri e propri call center i quali, con l'impiego di un linguaggio in codice, garantivano nella sola città di Milano la consegna a domicilio a favore di circa 2.500 clienti.